1111 1111 Angelus dice aspetta, è finita, ecco cosa succederà domani. Messaggio angelico Dio ti sta parlando personalmente in questo preciso momento. Considera il momento di ritrovare il tuo sorriso e ricordare che non sei mai solo in questo viaggio della vita. Permettimi di essere la tua guida e sii sicuro che i miei angeli saranno al tuo fianco accompagnandoti in ogni passo che farai. Rilassati e abbi fiducia in me perché ho dei progetti meravigliosi riservati appositamente per te. In effetti, è importante che tu ripristini entusiasmo e speranza perché i miei piani per te sono ancora più grandi di quanto tu possa immaginare o desiderare. Scrivi 1010 per confermare il tuo impegno verso questi piani, perché il meglio deve ancora venire. Le benedizioni sono a portata di mano e pronte a manifestarsi nella tua vita. Gli angeli sono lì per proteggerti e lo Spirito Santo ti guida nel tuo cammino. La guarigione è in arrivo e nessuna avversità avrà successo contro di te. Inoltre, le tue finanze si moltiplicheranno e un raccolto abbondante sta per manifestarsi nella tua vita. Sentiti sicuro e fiducioso sotto la guida divina che ti accompagna. Scrivi 111 per prendere possesso di tutto ciò che verrà. Tutti i tuoi bisogni saranno soddisfatti, quindi credici e mantieni la fede. Sei sulla strada giusta e ti sto guidando verso incredibili opportunità e un grande successo. Continua a provarci con determinazione e vedrai i tuoi sogni diventare realtà. Dio promette che sta arrivando un nuovo tempo e io sarò qui per guidarti verso le opportunità che ti aspettano. Preparati a ricevere meravigliose sorprese lungo il tuo cammino. All'improvviso il vero amore busserà alla tua porta e ti sentirai più sano e pieno di vitalità. Avrai risorse sufficienti per pagare tutti i tuoi debiti e sarai comunque in grado di offrire qualcosa di speciale ai tuoi figli. Senti la trasformazione che avviene intorno a te e permetti a questi incredibili cambiamenti di manifestarsi nella tua vita. Scrivi 222 e apriti per ricevere queste benedizioni. Oggi Dio ti sta dicendo di prepararti per una nuova fase della tua vita. Le difficoltà che affronti stanno per essere superate e presto arriverà un flusso improvviso di opportunità e benedizioni per illuminare il tuo cammino. Siate pazienti e confidate nei tempi divini, perché tutto questo avverrà molto presto. Senti l'energia speciale di questo messaggio, Dio è al tuo fianco e guida ogni tuo passo. Le porte si aprono portando con sé un nuovo viaggio pieno di speranza e di risultati. Rimani saldo e credi nel potere divino che è all'opera nella tua vita. Credi che il momento della trasformazione sia vicino e permettiti di provare l'emozione che questo messaggio porta con sé. Dio sta per realizzare i tuoi sogni ed è aperto a ricevere tutto ciò che ha preparato, soprattutto per te. Preparatevi per il nuovo capitolo che sta per iniziare. Caro Dio, ti chiedo umimente di riversare la forza su coloro che sono sfiniti dal portare pesi e su coloro che si sentono dimenticati. Fate loro sapere che non sono arrivati qui per puro caso, ma che è stato Dio a guidarci fino a questo momento. Voglio che tu sappia che Dio sta creando una via. Un nuovo orizzonte di possibilità si rivela davanti a te proprio in questo momento. Sta lavorando per guarire i tuoi dolori e le tue malattie. Dio ti concederà opportunità che non avresti mai immaginato possibili e porterà guarigione alle relazioni tese che hai dovuto affrontare. Non perdete la fiducia perché la vittoria si avvicina ed è pronta per essere abbracciata, scrive 555. Se desideri ardentemente sperimentare questa trasformazione nella tua vita. Siate certi che nessun male potrà raggiungervi, nessuna malattia oserà entrare nelle vostre case? Dio ordinerà ai Suoi angeli di proteggervi in ogni passo che farete. Sentiti avvolto da questa protezione divina e abbracciato dalla presenza amorevole di Dio. Lasciate che questo messaggio trovi un posto speciale nei vostri cuori perché non è solo una coincidenza, ma l'amore di Dio. Parlando direttamente a voi, portando speranza e rinnovando le vostre vite. Abbandona oggi ciò che non è nelle tue mani per non sovraccaricarti di cose che sfugono al tuo controllo. Sappiamo che non sempre le persone si comportano come vorremmo e che le sfide del lavoro possono essere estenuanti, ma una cosa rimane salta. Dio sarà sempre Dio, fidati che si prenderà cura di tutto. Le sfide sul lavoro possono essere una fonte costante di stress, ma affida tutte le tue preoccupazioni a Dio attraverso la preghiera. Possano solo parole di benedizione uscire dalle tue labbra. Digita Amen per attivarlo. Benedizioni 1111 Angelus dice Aspetta, è finita, ecco cosa succederà domani. Messaggio angelico Dio ti sta parlando personalmente in questo preciso momento. Considera il momento di ritrovare il tuo sorriso e ricordare che non sei mai solo in questo viaggio della vita. Permettimi di essere la tua guida e sii sicuro che i miei angeli saranno al tuo fianco accompagnandoti in ogni passo che farai. Rilassati e abbi fiducia in me perché ho dei progetti meravigliosi riservati appositamente per te. In effetti, è importante che tu ripristini entusiasmo e speranza perché i miei piani per te sono ancora più grandi di quanto tu possa immaginare o desiderare. Scrivi 1010 per confermare il tuo impegno verso questi piani, perché il meglio deve ancora venire. Le benedizioni sono a portata di mano e pronte a manifestarsi nella tua vita. Gli angeli sono lì per proteggerti e lo Spirito Santo ti guida nel tuo cammino. La guarigione è in arrivo e nessuna avversità avrà successo contro di te. Inoltre, le tue finanze si moltiplicheranno e un raccolto abbondante sta per manifestarsi nella tua vita. Sentiti sicuro e fiducioso sotto la guida divina che ti accompagna. Scrivi 111 per prendere possesso di tutto ciò che verrà. Tutti i tuoi bisogni saranno soddisfatti, quindi credici e mantieni la fede. Sei sulla strada giusta e ti sto guidando verso incredibili opportunità e un grande successo. Continua a provarci con determinazione e vedrai i tuoi sogni diventare realtà. Dio promette che sta arrivando un nuovo tempo e io sarò qui per guidarti verso le opportunità che ti aspettano. Preparati a ricevere meravigliose sorprese lungo il tuo cammino. All'improvviso il vero amore busserà alla tua porta e ti sentirai più sano e pieno di vitalità. Avrai risorse sufficienti per pagare tutti i tuoi debiti e sarai comunque in grado di offrire qualcosa di speciale ai tuoi figli. Senti la trasformazione che avviene intorno a te e permetti a questi incredibili cambiamenti di manifestarsi nella tua vita. Scrivi 222 apriti per ricevere queste benedizioni. Oggi Dio ti sta dicendo di prepararti per una nuova fase della tua vita. Le difficoltà che affronti stanno per essere superate e presto arriverà un flusso improvviso di opportunità e benedizioni per illuminare il tuo cammino. Siate pazienti e confidate nei tempi divini, perché tutto questo avverrà molto presto. Senti l'energia speciale di questo messaggio. Dio è al tuo fianco e guida ogni tuo passo. Le porte si aprono portando con sé un nuovo viaggio pieno di speranza e di risultati. Rimani saldo e credi nel potere divino che è all'opera nella tua vita. Credi che il momento della trasformazione sia vicino e permettiti di provare l'emozione che questo messaggio porta con sé. Dio sta per realizzare i tuoi sogni ed è aperto a ricevere tutto ciò che ha preparato, soprattutto per te. Preparatevi per il nuovo capitolo che sta per iniziare. Caro Dio, ti chiedo umimente di riversare la forza su coloro che sono sfiniti dal portare pesi e su coloro che si sentono dimenticati. Fate loro sapere che non sono arrivati qui per puro caso, ma che è stato Dio a guidarci fino a questo momento. Voglio che tu sappia che Dio sta creando una via. Un nuovo orizzonte di possibilità si rivela davanti a te proprio in questo momento. Sta lavorando per guarire i tuoi dolori e le tue malattie. Dio ti concederà opportunità che non avresti mai immaginato possibili e porterà guarigione alle relazioni tese che hai dovuto affrontare. Non perdete la fiducia perché la vittoria si avvicina ed è pronta per essere abbracciata, scrive 555. Se desideri ardentemente sperimentare questa trasformazione nella tua vita. Siate certi che nessun male potrà raggiungervi, nessuna malattia oserà entrare nelle vostre case? Dio ordinerà ai suoi angeli di proteggervi in ogni passo che farete. Sentiti avvolto da questa protezione divina e abbracciato dalla presenza amorevole di Dio. Lasciate che questo messaggio trovi un posto speciale nei vostri cuori perché non è solo una coincidenza, ma l'amore di Dio. Parlando direttamente a voi, portando speranza e rinnovando le vostre vite. Abbandona oggi ciò che non è nelle tue mani per non sovraccaricarti di cose che sfugono al tuo controllo. Sappiamo che non sempre le persone si comportano come vorremmo e che le sfide del lavoro possono essere estenuanti, ma una cosa rimane salta. Dio sarà sempre Dio, fidati che si prenderà cura di tutto. Le sfide sul lavoro possono essere una fonte costante di stress, ma affida tutte le tue preoccupazioni a Dio attraverso la preghiera. Possano solo parole di benedizione uscire dalle tue labbra. Digita Amen per attivarlo. Benedizioni Grazie a tutti i nostri spettatori. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.